Oggi ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La violenza in realtà non ha genere. Ho finito questa mattina di dire ai miei alunni ed alunne che l'unico posto idoneo per custodire le mani è la tasca, le tasche, perché nelle tasche oltre alle mani custodiamo i sogni, sogni che poi cerchiamo di realizzare e la violenza i sogni li spegne e li interrompe sempre. Ricordiamoci allora in una giornata come questa che oltre alla violenza fisica esistono la pressione e la violenza verbale e come ci ha lasciato detto la vittima ahimè più nota e non l'unica di cyberbullismo, Carolina Picchio, le parole fanno più male delle botte. Dunque scegliamo con cura sempre e a tutte le età, qualunque sia il nostro sesso, le parole da dire e soprattutto quelle da non dire mai.